Quella che sta per aprirsi sarà una consigliatura che vedrà la città attiva e Paolo Comaioni di nuovo seduti tra i banchi della minoranza. Questa volta insomma sarà diverso dopo aver amministrato questa città per cinque anni? Sarà assolutamente diverso. Noi abbiamo innanzitutto il dovere di onorare quei 2672 cittadini che ci hanno consentito di raggiungere un risultato davvero importante che conferma nel nostro progetto una forza che è al centro della proposta politica di Martinsicuro. Noi imposteremo un lavoro di minoranza basato su un discorso di assoluta continuità, ovvero vigileremo a che chi oggi ha l'onore e l'onere di amministrare in maniera diretta questa città possa dare continuità alle molte cose che abbiamo messo in campo, alle molte progettualità che attendono di essere compiute e che sicuramente laddove accompagnate con discernimento e con capacità amministrativa daranno sicuramente lustro a questa città e daranno un importante seguito alle aspettative di tutti i cittadini. Noi saremo, come ho già avuto modo di precisare, una opposizione rigorosa, intransigente ma mai preconcetta sempre se l'azione amministrativa sarà improntata, come ripeto, a criteri di assoluta continuità con quanto fatto in maniera positiva e propositiva dalla nostra amministrazione. C'è già qualche critica da parte vostra, da parte sua, su un paio di eventi che sembrano siano stati annullati, eventi della stagione estiva e intanto però nel tardo pomeriggio di ieri un po' a sorpresa è stato riaperto il ponte ciclopedone. Noi ci aspettiamo che le dichiarazioni rese da chi oggi amministra questa città, ovvero di non disconoscere nulla di quanto abbiamo lasciato, trovino un seguito operativo importante. Io voglio ricordare che l'impresa esecutrice dell'opera ha avuto un gesto di grande onestà intellettuale che è stato quello di scusarsi con noi, segnatamente con il sottoscritto, per non essere riuscita a garantire l'apertura e la fruibilità di quest'opera nel tempo a noi assegnato, ovvero nel corso del nostro mandato. Infatti siamo fuori di circa 20 giorni, è un aspetto che ovviamente crea qualche piccolo disappunto ma noi non disperiamo perché siamo sicuri che l'amministrazione attuale, quando si tratterà di effettuare operazioni formali e ufficiali di inaugurazione del ponte sul Vibrata, saprà riconoscere i giusti meriti di chi li ha preceduti.